oh pc ci sei? pc a puttana si pc vabbè ipad da fare andiamo a fare la parte più impossibile del gioco c'è sto ragazzo che non so chi cazzo sa che se continui a evitarmi io mi incazzo ok quanto wisebot come sempre non dice che siamo in live in questo momento lo dirà fra un'ora o ancora mi invita se continui a invitarmi lo blocco adesso partirà il commento del wisebot sempre dopo un minuto più o meno perché funziona così il nostro wisebot di fiducia ricordo ai gentili telespettatori che questa è la parte più complicata del gioco questa difficoltà per quanto mi riguarda questa si era pure buggata vabbè se qui ci si mette pure sto stronzo posso trattenerli a lungo solo un attimo continuo a coprirvi eh vabbè cominciamo eh cominciamo cominciamo male ecco come cominciamo 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 Non posso trattenerli a lungo Cazzo mi ha quasi body bloccato Joseph Ma io dico perché non riesco Io lo devo far fare a qualcun altro Giuro lo devo far fare a qualcun altro Mia se si potesse cambiare difficoltà solo in questo pezzo Lo farei Adesso inizia la sfida di morte Lo vi avviso Scusate No sono bloccato Eh vabbè Sì ogni tanto però va totalmente a culo Eh vabbè con un po' di bloccato Joseph Io questa parte non riesco a farla ragazzi Poi ogni tanto corrono più del normale Fanno un po' come vogliono Poi c'è quello con la cetta che la lancia Eh vedi C'è lo stronzo che si attacca a Joseph Vedi come si fa a farlo Io non so come cazzo abbia fatto Meg A fare questa parte Non ne ho una minima idea Io credo che non riuscirò ad andare avanti in questa run Non è che dovrò annullare l'idea di fare il plus Eh sì il plus di platino solo per questo punto del gioco E lo dico tranquillamente perché ragazzi Io lo so che è una cazzata Ma non riesco La trovo la parte più difficile del gioco in questo momento Con questo difficoltà Io non so come non mi abbia colpito Non posso trattenerli a lungo Solo un attimo continuo a copermi Eh vabbè Mi fanno la presa Credo che Saranno altre Tre ore di nulla Oggi E quando mi arrenderò l'idea che non riesco a farlo Giocherò ad alto Non so perché ogni tanto si blocca i nemici Eh vabbè Basta che rallenti nel momento sbagliato Se ti fanno una paese o ti colpiscono Se ti fanno una paese o ti colpiscono Non so perché non so che non so che ti fanno una paese o ti colpiscono vabbè non l'ho colpito in tempo io non credo di riuscire a finire il gioco non posso trattenerli a lungo solo un attimo continuo a coprire qui Grazie a tutti. Ok, quindi è fattibile, è fattibile resistere a quelli che arrivano dopo, per uccidere i primi. Il problema è cosa faccio io adesso. Posso resistere ai primi ma poi... Poi diventano troppi, questo è il problema. Ok, vedi? Il tempo di lamentarmi ce l'ho sempre. Sempre e comunque. Ecco. E ce l'ho quasi, lo so che ce l'ho quasi. Morire per delle cazzate, come sempre. È fastidioso sto gioco, raga. Ok. Ok. Oh, Gesù. Devo per preparare. Non posso trattenerli a lungo. Solo un attimo. Continua con me. Eh no, niente. No, o va tutto bene, come ho fatto prima, perfetto, per poi tenere gli ultimi. Oppure mi sa che non ci riesco. È fastidioso quell'uno che cambia. Io ogni tanto, quello è me, ogni tanto decide di attaccare Joseph. È veramente rompipalle quello. Per esempio è culto. No. Vai pure. È venuto. Ok. Adesso vogliono tutti me di nuovo Adesso vengo preso Ok Strano Joseph ha un hitbox fatta male ogni tanto Senza presa per Joseph Eh vedi mi tocca senza toccarmi a volte Ci siamo Forza Welcome back command and control Bentornato E poliziai welcome back Se tu non guardi le muni non te le prendi Sono morto per prendere le muni No ok Strano Se avessi a stamina al massimo forse tutto questo sarebbe più facile No e vabbè ma no così no Morire così no Eh vabbè non ho stamina Fastidio Come mi attaccano mentre scava Eh sì domani Non toccare No ok bravo Vieni da me bravo Non posso trattenerli a lungo Solo un attimo Continuo a coperti No perché hanno deciso di attaccare Joseph Due hanno deciso di attaccare Joseph Che palle Eh vabbè Ma va Avevo notato Ne ho uccisi due Joseph Quasi sta diventando più facile sta parte Il problema dell'altra è che ce ne sono troppi a un certo punto Veramente troppe Ci siamo Forza Mi hanno colpito Aiuto Mi hanno colpito Posso dire che odio un minimo quelli con i falcetti e con le accette che possono colpirmi da lontano Un minimo però eh Barile di merda che body blocca Basta Ragazzi un attimo Arrivo subito Oh, welcome back Bananameen Banani Bananinameen Ok Ok We did it We fucking did it Credo che non ce l'avrei fatta senza il potenziamento alla stamina Io sarei felice di questa siringa Ma Non posso usarla Adesso vado a salvare E salvo anche due volte Non mi frega niente Per quanto ancora in terra Che cazzo sto a fa' Dov'andava E se salvo qui Gel non ce l'ho No, a posto Sfaccio un altro slot A posto Ne frega un cazzo Ma ora possiamo andare C'è C'è Ne sono molti Diverso dal potrebbero Cosa diceva La carissima La carissima Meg Che in Akumu Non ci sono quelli con le balestre Eh vabbè Eh vabbè Non sono riuscito a mirare Se sparavo giusto Se sparavo giusto Se sparavo giusto Se sparavo giusto l'avrei ucciso invece sto cazzo Comunque basta avere forza di volontà Perseveranza E pazienza Poi Stimo attenti Potrebbero essercene giunti E vaffanculo Ma io che ne sapevo che ce n'era un altro subito dietro E vaffanculo Ma vaffanculo eh Stimo attenti Treppure esserci giunti Stimo attenti Sì 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 ma sarete stronzi tutti e tre siete in due però eh vabbè ma là siete proprio stronzi oh ma mi dici come cazzo mo dovrò fare sta parte ci sono troppi nemici corrono come tutti degli assatanati porca troia non si può fare stealth perché sono tutti stronzi si devo uscire con la memoria a breve termine vabbè not for seven è sempre più condone not for not for t7 non ci sono Non so che cazzo sia stato Lanciarmi una cazzo di accetta O un falcetto Non so io cosa gli faccio a sti due Impossibile Impossibile Se mai farò delle live che non ricaricherò su youtube Ci metto musica di sottofondo A prescindere Proprio a palla Me ne freghismo Il copyright Ecco Mi sono caccato in mano Io non mi fido di quelle bombe Non posso disattivarle Non sono Non sono capace di farlo Non so se qualcuno mi abbia visto Che ho sentito un rumore In un falcetto O un accetto No ma non ho visto Non solo come dei handicappati Eh no Questo invece si Mi ha visto Mi sono caccato in mano Eh vabbè Devo entrare Oh Gesù Ok Dunque sento sempre gente Che prova a lanciarmi accette Poi boh O falcetti Ok Io devo stare molto attenti con questi perché Se ti attaccano prima Se tu hai un'arma corpo a corpo che è sciolta Devi attaccare nel momento giusto Perché se no No con questo non devo Non devo avvicinarmi Adesso lo ammazzi no Joseph Grazie Un secondo prima era difficile Joseph Stiamo attenti Almeno si arriva pure il terzo Cioè sentite Sembra sempre che ci sia qualcuno che voglia lanciarmi un'accezza da qualche parte Vedi? Qualcuno mi ha ucciso lanciandomi un'accezza da qualche parte C'è sempre qualcuno pronto a tirare Non so dove Sono meno Grazie a tutti Grazie a tutti